Dobbiamo stare attenti al loro modo di giocare, alle loro caratteristiche, alla loro voglia di tornare davanti alla propria gente anche se è una squadra che ha cambiato abbastanza rispetto allo scorso anno sia a livello tecnico come allenatore che come giocatori però devo dire che stanno facendo un buon percorso. Sì è una squadra che nonostante abbia subito la sconfitta a Gubbio hanno fatto una buona partita, hanno avuto qualche esitazione per poterla anche pareggiare o sbloccarla prima quindi è una squadra giovane però le squadre giovani come lo possiamo essere anche noi vivono di entusiasmo, di spensieratezza a volte quindi è una squadra che sa quello che deve fare, ho visto una squadra ben messa in campo quindi ripeto sarà tutt'altra partita forse rispetto a quella di Gubbio quella che faranno anche loro per tante situazioni che ho detto, per il campo, per l'ambiente, per la voglia, per le motivazioni quindi vediamo, noi dobbiamo essere pronti sicuramente a giocarci alla pari come motivazioni e poi se saranno più bravi a livello anche tecnico a fare qualche situazione c'è voglia di fare, ho visto buona disponibilità, ho visto situazioni buone in allenamento poi spesso volentieri non sempre rispecchia quello che sarà la domenica però devo dire che la voglia c'è siamo passati per la prima partita e quindi non siamo stati così al top della condizione ma tante squadre non lo sono quindi in questo momento ci preme entrare sempre di più dentro i meccanismi, dentro i concetti di gioco quindi la condizione conta però non possiamo tralasciare quelle che sono poi le nostre idee la voglia soprattutto di fare risultato quindi ho visto miglioramenti in settimana grazie 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 grazie